Proseguono a ritmo serrato le attività di controllo sul territorio, svolte dal Nucleo Tutela Ambientale della Polizia Municipale, in via Brecce a Sant'Erasmo solo l'ultimo degli interventi degli agenti guidati dal Capitano Enrico Del Gaudio per risalire agli autori di smaltimenti illegali di rifiuti nell'area. Sono numerosi i quartieri in cui la squadra speciale della Polizia Locale opera quotidianamente per contrastare gli illeciti più diffusi a tutela del decoro urbano e dell'igiene della città. Tra i comportamenti più sanzionati il conferimento in maniera indifferenziata è al di fuori dell'orario consentito dalle 20 alle 22 dei rifiuti solidi urbani da parte di cittadini e commercianti. Queste due irregolarità sono sanzionate con una sanzione pecuniaria che va da 100 a 500 euro. Ma anche la produzione e lo smaltimento di materiali speciali e residui di lavorazione prodotti da aziende ed officine. Spesso i rifiuti, li chiamiamo rifiuti parlanti proprio perché al loro interno riusciamo ad individuare elementi che ci conducono al produttore, eventualmente al trasportatore, insomma mettendo insieme i dati che ne risultano riusciamo a risalire responsabili e a combinare le sanzioni sia amministrative che penali che sono previste nel caso in cui si tratti di abbandoni singoli oppure di continui conferimenti e quindi la creazione di discariche più o meno organizzate. Circa 20 attività controllate in un mese e 30 interventi. I 26 agenti del nucleo divisi in 7 unità operative intervengono anche sulle segnalazioni dei cittadini raccolte attraverso la pagina Facebook della Polizia Ambientale e l'indirizzo e-mail polizialocale.tutelaambientale-comune.napoli.it L'invito è sicuramente di continuare a farle, di sapere che dall'altro lato c'è chi le legge e chi si fa carico di andare a verificare.